Benvenuti in un nuovo vlog, sì c'è un macello enorme alle mie spalle ma abbiamo appena finito di mangiare dobbiamo caricare tutte le vastoviglie, non vi faccio vedere il livello come è, in che condizioni è oggi andiamo in piscina, passeremo lì il pomeriggio e ci prepariamo insieme ho fatto un po' diciamo una cavolata a truccare questa mattina perché normalmente non mi trucco così tanto per andare in piscina però avevo dei contenuti da registrare e dovevo essere un minimo truccata e niente penso probabile che mi davrò anche la faccia prima di uscire comunque preparo come prima cosa la borsa, questa ogni tanto me la chiedete comunque è di mini studio, si può personalizzare i sceltori iniziali del nome allora nella borsa ho già preparato, telo per noi, in mussola di cotone super comodo telo per noi, pannolini, ne prendo tre normali, due per la piscina perché sono questi protezione solare per noi, questa che avevo comprato ancora in Sardegna della Roche-Posay però essendo che è quasi finita non vorrei rimanere senza, una volta arrivata là prendo anche questa di Uriage protezione per noi, eh sì, sto buttando tutto nella borsa totalmente a caso patatine, queste penso che le lascio perché a me non piacciono tanto pacchi di patatine, per ultimo vado ad aggiungere anche acqua, un fruttino commesso in frigo questo lo lascio ancora un po' raffreddare, ho preparato della pasta per Noelle per cena con pomodorini, un po' di verdurine miste, in realtà ho utilizzato un pochino omogenizzato di verdure miste messo dentro ma era tanto quindi nemmeno si sente, giusto per renderla un pochino più cremosa dare un sapore un pochino diverso, pancetta e basilico, buono per noi invece adesso prepariamo dei panini, ho preso, sono stati stamattina in palificio e sono andata a prendere dei panini, quattro, belli morbidi ho preso mozzarella, questa è della grana mozzarella fresca e due pacchetti di salone, uno cosciutto gotto e uno cosciutto brudo li prepariamo insieme al volo io li vado a preparare ma vi dico la verità non so bene fino a che ora staremo lì abbiamo deciso di partire sul presto, in realtà ho organizzato un po' il pesonino di Noelle in base a questo perché stavo per tagliarmi un dito Noelle sta perdendo il riposino della mattina e quindi ne ho approfittato essendo che stamattina si è girato tipo verso le 8, 8 e mezza io ho fatto saltare il riposino della mattina anticipando quello pomeridiano mi ha dormito quasi due ore quindi spero che fino a sera arrivi anche se sicuramente non andrà a letto solito orario tipo le 9, 9 e mezza ma sicuramente stasera andremo ad anticipare parecchio e i panini me li porto perché appunto non so bene per quale torniamo e almeno siamo sicuri di non andare a spendere troppi soldi al barettino in piscina i panini li faccio molto molto semplici ho preso i panini ho detto ho preso i pomodorini tra l'altro dell'orto sono buonissimi ci vado a mettere appunto pomodorini sotto così se lasciano un po' di acquittà si impregna per bene il pane forse sono tagliati un po' troppi mozzarella la taglio a fettine diciamo semplice, veloce e soprattutto non dovremmo cucinare stasera una volta che torniamo a casa cosa fondamentale andiamo a mettere un po' di salumi faccio già penso due vabbè senza penso due con il crudo e due con il cotto perché questo è quello che ho preso quindi anche mi posso inventare tanto secondo me va a finire che in piscina tipo ci mangiamo questo e poi quando torniamo a casa facciamo tipo un mini aperitivo perché non so se ci arrivo a sera solo con due panini prosciutto cotto andiamo a mettere di qua ok chiudiamo e ora li andiamo a impacchettare normalmente li avrei messi nella cassa spagnola ma mi sono accorta adesso che l'ho finita quindi pellicola e poi sacchetto direttamente stavo dicendo giusto a mano che a fare questa attività mi sento tipo tanto mamma perché mi ricorda quando mia mamma cioè quando tipo ci preparavamo per andare sul lago ma anche tipo in Polonia e preparava questi paninetti proprio un'attività da mamma questa ok sacchettino di plastica perché non so se chiude bene la pellicola sacchettino di carta perché boh si sa mai una brava mamma in realtà avrebbe messo tutto tipo in una cassa termica tipo anche l'acqua e invece sto mettendo tutto qua dentro per noi porto anche queste ci ha poi raggiunto il mio fratello io mi sono andata a cambiare ho messo questo costume che è il più comodo che ho perché la mutanda è molto larga e quindi diciamo che resistente ad ogni movimento che devo fare per stare a pressa noel abbiamo preso le borse e ci siamo diretti in macchina e ero molto felice molto molto felice come potete vedere di essere insieme anche mio fratello perché non riusciamo quasi mai bellissime in quadratura comunque quasi mai a fare queste uscite insieme dopo più o meno una mezz'oretta siamo arrivati a Riovalli e abbiamo avuto una fortuna incredibile perché i parcheggi erano sbombati il parkour sbombato però abbiamo avuto fortuna sia nel parcheggio abbiamo trovato posto stava uscendo una macchina e anche l'ombrellone stessa cosa stava andando via una famiglia e noi ci siamo accaparati il nostro subito appena siamo arrivati in realtà ho lasciato noel e mano da soli a giocare insieme e io e mio fratello siamo andati a fare due scivoli ma non vi dico la coda incredibile per farli vabbè c'era un sacco di gente io ho poi raggiunti gli ho fatto fare uno spuntino mio fratello nel frattempo è andato a fare altri scivoli e io ho passato un pochino di tempo con noel che nel frattempo si stava divertendo come un matto vi ho lasciato un po' di audio originale per farvi capire il macello che c'era comunque è sempre più bello vedere noel in acqua perché cresce sempre di più e vuole sperimentare giocare sempre di più ci divertiamo davvero tanto con lui nonostante sia comunque sì faticoso perché bisogna correre lì dietro tutto il tempo siamo tornati poi verso gli ombrelloni volevamo fare un breve aperitivo intanto mio fratello ci raggiungeva siamo andati al baretto nel frattempo noi lo abbiamo messo nel passeggino gli abbiamo dato qualche patatina in questo modo io e mano siamo riusciti a riposarci un attimino e sì spoiler non mi ero lavata il viso alla fine me l'ero completamente dimenticata una volta finito l'aperitivo in realtà non l'abbiamo tirato giù dal passeggino perché era molto molto tranquillo quindi abbiamo giocato un altro pochino ha continuato il suo spuntino nonostante non lo volesse assolutamente condividere con me ma solo con il papà e vabbè diciamo che ultimamente va così e gli ho mostrato le mie doti da giocogliere cioè con due palline mamma mia non datemi la terza perché sennò faccio macelli e le lancio dappertutto una volta che poi ha iniziato a lamentarsi l'abbiamo sguinzagliato abbiamo giocato un po' con la palla e praticamente siamo stati così finché non è arrivato mio fratello quel punto l'abbiamo abbiamo aspettato un altro pochino di tempo che si asciugasse lui da tutta l'acqua ci siamo rimessi in macchina e siamo tornati a casa e vi dico che se no è stato tranquillo tutto il giorno quando siamo arrivati a casa si è sfogato tantissimo era super arrabbiato perché ha fatto un riposino in macchina e lo abbiamo dovuto svegliare per scendere dalla macchina purtroppo sono una di quelle mamme che non riesce a prendere il bimbo senza svegliarlo vabbè prima o poi imparerò queste erano le mie bellissime condizioni e una volta che siamo tornati a casa poi abbiamo cenato abbiamo mangiato quei panini che in realtà non avevamo mangiato in piscina ma solo una volta tornati a casa stessa cosa Noel come noi ha cenato soltanto una volta che è arrivato a casa come sempre spero di avervi tenuto compagnia che questo vlog vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto allora iscrivetevi al canale così da non perdervi tutti quanti i prossimi video noi ci vediamo nel prossimo vlog ciao